Da qualsiasi prospettiva la si vede, la partita di domani è un big match, sì, una gara di alta classifica con due squadre che stanno facendo benissimo in campionato. Il Presti ospita Gela Palmese, cioè dire la sesta contro la quinta in gradotoria. I biancazzurri del tecnico Pietro Infantino accusano solo un punto di distacco dai calabresi. Ecco perché la partita di domani è considerata una gara da vincere a tutti i costi per la truppa tanto cara al presidente Francesco Tuccio. Vinciata significherebbe scavalcare gli avversari e consolidare l'ottima posizione in piena zona playoff. Non guardo mai la classifica, nel senso che se sono i playoff, se sono primo, se sono... C'abbiamo un obiettivo, questo credo che ci dobbiamo mettere in testa tutti, che è la salvezza. Prima mettiamo fino in cascina, meglio è, e poi guardiamo quello che possiamo fare. Io ogni volta ogni domenica ti posso assicurare che non guardo la classifica, non guardo cosa ha fatto quella davanti a me o quella dietro a me. Guardo cosa abbiamo fatto noi, se abbiamo fatto bene o male, se abbiamo sbagliato determinate cose, che è la cosa che a me piace guardarmi in casa propria. Davanti al pubblico di casa, dopo la sconfitta rimediata con Rige Virtus di qualche settimana dietro, non bisogna più fallire. Il Presti deve essere tabù per gli avversari. Domani c'è la Palmese, che è un avversario abbastanza tosto, ci hanno un attaccante molto forte, come tutta la squadra, una squadra molto compatta, rognosa. E noi dobbiamo fare il nostro dovere, soprattutto come già ho detto spesso e volentieri, siamo a casa nostra e siamo davanti ai nostri tifosi e dobbiamo dare proprio il 100%. Un campionato che potrebbe regalare soddisfazioni al club biancazzurro. Al fine di ottenerli, dicevo, la bisogna lavorare sodo. Prima raggiungiamo salvezza, prima ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Vediamo come siamo messi a marzo, a febbraio, vediamo un attimino. E poi dopo possiamo parlare di play-off, possiamo parlare di vincere il campionato, perché è inutile che stiamo lì a pensare che è play-off. Ora stiamo a pensare play-off? No, perché ricordiamoci dove eravamo due mesi fa e come eravamo conciati. Adesso stiamo parlando. Non corriamo. Facciamo domenica dopo domenica. Facciamo che dobbiamo fare il nostro lavoro, noi che andiamo in campo, come voi che siete lì tutti a sostenerci. Credo che ci toglieremo tante soddisfazioni, perché lo stiamo dimostrando e lo state dimostrando anche voi, che domenica scorsa è stato veramente bello. Parlo io in nome della squadra, a noi ci ha toccato veramente tanto perdere davanti a voi.